bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video ma che cosa c***o di modalità stiamo facendo ma che c***o di modalità stiamo facendo perché ma perché ma perché perché mezz'ora per il cogli ducocchio ma lei non è normale è corta è buona è buona è io ho fatto un land perfetto guys e non mi dia del tutto bello stavo buildando figa mi sono girato per uscire ho scherzo dove sbaglio il tasto lol e andiamo ma che cosa c***o sto vedendo ma che cosa c***o sto vedendo sempre tu mi inseguirai perché tu non lo sai ma nemm e sei proprio te quello che mi insegue oh yeah ti piace proprio prendo la mia grande banana ti piace si ciucciare la mia grande banana e piccolo paliaccio mi hai proprio ciucciattaccio e piccolo paliaccio mi ciucci proprio c***o ma vai giù perché non va giù perché non va giù perché non va giù 06 cosa fa apri scomparti segreti attenzione vai a tira fuori qualcosa di nero cioè aspetta un attimo aspetta finchè non vivra è tutto ok ci ha messo il con calma con calma ha messo l'altro bilanciere e adesso tra triplo edit a chiudere tutto io non no ragazzi secondo me qua siamo a pericolo eh ragazzi andato ah scusami pizza scusi pizza pensavo che stai facendo altre cose mi scusi le oltre tutto quanto ero cominciato che fosse un avversario che stai facendo cose che non dovevano essere fatte oltre 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 no dai no 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 adesso io adesso io ma scusate ma siamo tre v2 ma scusate c'è un tre v2 sei ero? no dai però chi è? però pizza è un gufo di m***a mi hanno arcato al volo in movimento pizza ma di cosa stiamo parlando ma lei pizza è un gufo di m***a faccio l'espressione che vorrei ok un attimo questa sarebbe l'espressione questo è l'oggetto per dire oppure ma cos'era? sto facendo delle prove erano un postitico oggi? no e qui è vero? no no aspetta aspetta e qua è giusta in realtà la cosa? e qui è nooo si 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 lo oh c***o è arrivato qui è arrivato eccolo bravo let's go snitch per qui si scoccio eh si si no 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 oh no 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 bisogna di aiuto? protegga si tengo io, tengo io no, non l'ho visto sopra, chiuda ma cazzo come cazzo è possibile ma mi ha fatto i HP aspetta che qua mi viene giù tutto sta venendo giù tutto mi è entrato uno nel box dove cazzo è entrato nice buffo spaz leggendario escar leggendario più high ground più buffo uguale victory 7 kill 16 alive 96 punti guardalo, 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 guardalo dai baffone problemi tecnici per il baffone non non doveva andare così ma non doveva andare così dai ma non doveva andare così victory ok ho fatto una foto? ah ho fatto una foto, chiedo scusa, aspetta, guardate, perché cazzo non parte? figa figa putt**o interpremuto il tornino in creativa che vi farà giocare insieme a me mi raccomando swipe verso l'alto fiorina cosa facendo? guarda qua, ma è sempre con il su 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 salsicci che salsicci si sta sfondando di patatine, ragazzi sul sul salsicci no, ho capito? se si cioè c'è il che vien su dal nel e poi no, no c'è Efesto lì sotto che sta gongolando pesantemente in questo momento Efesto fa allora andando avanti ho cercato di farlo in alleluia madre quella grande buttanassa invece io lo uso tanto instagram no però così